Siamo qui a Roma all'Istituto Superiore di Sanità con il Presidente della SPI Saranti Stanopoulos per il convegno nazionale promosso dalla SPI. Il titolo è valorizzare e potenziare la salute mentale. Abbiamo ascoltato i saluti del Ministro Speranza, abbiamo ascoltato anche l'introduzione del dottor Brusaferro. Che cosa vuol dire valorizzare e potenziare la salute mentale? Volevo innanzitutto chiarire che il convegno è promosso dalla SPI italiana ma anche dalla Società di Psichiatria Democratica, la Società di Epidemiologia Psichiatrica Italiana, dalla cadra di Psichiatria di Pavia dell'Istituto Farmacologico Negri e godi il sostegno di molti ma molti operatori e persone impegnate da molto tempo nel campo della salute mentale. Come ho finito di dire poco fa nella mia introduzione al convegno, quello che si prefigge della Società Psicanalitica Italiana partecipando a questa iniziativa è quello di creare un nuovo clima culturale. Nessun pensiero. Hai detto una rivoluzione culturale. Una rivoluzione culturale che mira a creare un clima di democrazia, di libertà espressiva, di libertà di confronto, di dibattito, che coinvolga tutte le forze che lavorano attivamente nel campo della cura psichica. Hai fatto un accenno molto serio ma ti ho sentito anche molto preoccupato relativo alle divisioni. Ah sì, diciamo così, è da molto tempo. Io penso che la sincerità ci giova e da molto tempo che le diverse forze sono tante, sono significative e ognuna ha qualcosa da dire. Io da sempre sono convinto di questo che più prospettive ci sono meglio. Ma la difficoltà di dialogo, la pretesa che si avanza da una parte o da un'altra di una prevalenza ideologica sul resto delle forze in campo ha portato al fatto che si sono creati un sacco di lobby. Non intendo lobby nel senso di un'organizzazione particolare ma di una tendenza molto chiara e definita di promuovere gli interessi proprio e quindi il campo della salute mentale è diventato un luogo dove uno spinge di qui, uno spinge di là, uno cerca di far fuori l'altro e tutto sommato questo non soltanto non porta da nessuna parte il nostro lavoro, lo parcelligia, lo rende inoperoso ma ci rende tutti un po' infelici a dire il vero. Il Ministro Speranza ha parlato che si sta per aprire una stagione di grandi investimenti. Che cosa ti auguri? Il Ministro Speranza ha segnato una svolta nel rapporto con la salute mentale, in questo senso anche il sottisegretario della sanità alla salute mentale fino all'ultimo governo, l'onorevole Giampa ha fatto un lavoro altrettanto molto importante che per noi è stato incoraggiante perché sentire che le forze democratiche del Paese hanno questa sensibilità, sentono i nostri problemi, ci incoraggia perché noi vogliamo lavorare con le istituzioni, vogliamo lavorare nelle istituzioni, vogliamo lavorare per le istituzioni, seguiamo, diciamo così, l'interesse generale e questo per noi è fondamentale. Il Ministro Speranza ha promesso una seria riflessione e anche investimenti massicci in questo campo. Certo non dipende solo da lui, dipende dall'equilibrio complessivo del governo ma penso che un Ministro appassionato e capace di comprendere la complessità dei problemi che insiste ci può dare una mano straordinaria. Non dobbiamo mai dimenticare che anche all'interno di questi convegni c'è sempre un invitato centrale e l'invitato centrale principale è il paziente. Sappiamo che cosa è accaduto soprattutto nei due anni di Covid. Hai detto con una frase anche questa molto forte perché se no non si capisce bene che il malessere psichico è un tumore psichico. Nel senso che noi pensiamo che il malessere psichico riguarda alcune persone. Intanto queste persone non sono alcune persone, sono quasi un 20% della popolazione e sono cifre enormi. Ma al di là di questo, guardando solo il singolo individuo e cercando in qualche modo di eliminare i problemi che il singolo individuo ha, seguiamo una prospettiva molto sbagliata. Quello che dicevo, ma la psicosi e la grave patologia psichica non è solo del singolo individuo, è anche delle società. Citavo l'esempio del nazismo, che cosa era se non una psicosi collettiva, una psicosi catastrofica? Ma anche oggi viviamo in una società che dal punto di vista psichico è seriamente sofferente. Non a caso tra le parole del manifesto c'è la parola comunità. Comunità. Allora la questione quindi del disagio psichico non può essere declinata indipendentemente dalla comunità. Non possiamo immaginare che possiamo tagliare una parte, una fetta della comunità fuori e tutto sommato pretendere di assisterla per non far sentire la sua voce, perché tutto sommato rischiamo di silenziare la sofferenza, ma silenziando la sofferenza delle persone più sensibili, quelle che per complessi motivi genetici, ambientali, sociali, micro ambientali, familiari, soffrono più degli altri. Cercando di isolare in loro il problema della sofferenza non ci rendiamo conto che ci ammaliamo pure noi. Finiamo per assestare un duro colpo anche alla democrazia. Certamente assestiamo un duro colpo alla democrazia in primo luogo perché il 20% della popolazione non può essere privato dei suoi diritti senza che questo abbia dei contraccolpi. Non può sparire dai luoghi della convivialità culturale, politica e lavorativa. Oggi le persone che soffrono sono regolarmente spinte ad andarsene dai luoghi di lavoro e nessuno protesta. Allora questo non è democratico, ma soprattutto se noi lasciamo che il malessere invada la società perché la società rifiuta di accoglierlo e di prenderne cura come qualcosa che le appartiene anche, allora diventa una società malata nelle sue relazioni. È una società malata nelle sue relazioni. Non può funzionare in maniera democratica. Per l'amore del cielo dobbiamo imparare a capirlo. Dopo il presidente Saranti Stanopoulos abbiamo qui con noi il professor Pierluigi Politi, ordinario di psichiatria e anche a lui come al presidente Stanopoulos chiedo che cosa voglia dire valorizzare e potenziare la salute mentale? È cosa semplice, è cosa complicata al tempo stesso. Non c'è salute fisica, lo sappiamo, senza salute mentale, ma non c'è neppure salute mentale senza la salute fisica. E nell'intreccio fra queste due componenti si gioca gran parte del nostro mestiere, perché noi da sempre siamo medici del corpo e insieme medici dell'anima. Tendenzialmente però la medicina cerca di spostarsi da una parte o dall'altra. Ha un sogno, quella di lavorare per categorie diagnostiche definite, sindrome, quadri clinici puliti, ma contemporaneamente deve fronteggiare il fatto che la realtà è composta da pazienti e non da malattie. Allora nell'equilibrio fra questi due asintoti, da un lato l'esistenza di dati obiettivi e dall'altro il valorizzare il dato soggettivo della persona, ecco nella ricerca dell'equilibrio fra queste due componenti, noi crediamo stia la salute mentale delle persone. Abbiamo ascoltato vari interventi, a cominciare dal Ministro Speranza, passando poi al Dottor Brusaferro. Che cosa è lecito che si aspetti il paziente, colui che soffre, e dal manifesto per la salute mentale e dal convegno di oggi? Cioè sostanzialmente come istituzioni, che cosa state facendo e che cosa volete ottenere per la salute del paziente? Ma anche qui io lavorerei secondo due dimensioni. Un'ottica di profondità, cioè noi dobbiamo rispondere alle esigenze del paziente nella maniera più aggiornata, più corretta, più etica possibile. Ma nello stesso tempo, su una dimensione più orizzontale, noi dobbiamo rispondere alla domanda della popolazione. Far sì che non ci siano discriminazioni tra persona e persona, tra esigenza e esigenza. Perché dal punto di vista degli investimenti, abbiamo sentito dal Ministro, sono aumentati moltissimo. Ma da sempre noi sappiamo che l'economia sanitaria può essere una sorta di spugna, una sorta di voragine in cui non serve mettere sempre più denaro. Serve invece avere un'attenzione regolatoria al tipo di interventi, alla qualità degli stessi e al feedback che riceviamo dalle persone che ricevono le cure. Dottor Paolo Migone, direttore di Psicoterapia e Scienze Umane, che cosa è lecito aspettarsi da un convegno che ha per titolo valorizzare e potenziare la salute mentale? L'enfasi di questo convegno è quello dei servizi pubblici. Quello che io spero che emerga da questo convegno è la comprensione del fatto che la psicoterapia è uno degli strumenti più efficaci nella terapia dei disturbi mentali comuni, cosiddetti appunto common mental disorders in inglese, che sono soprattutto i disturbi d'ansia e depressivi, non le psicosi maggiori. Ecco, la ricerca empirica, che oggi tanto viene valorizzata, ha dimostrato in modo molto chiaro che nei disturbi mentali comuni, che sono i più diffusi, la psicoterapia è più efficace dei farmaci in molti casi e oppure uguale in alcuni casi. Ma a lungo andare, cioè col follow-up, la psicoterapia presenta minori ricadute e anche un aumento nel tempo degli effetti, come se il paziente avesse interiorizzato delle strutture, delle funzioni che ha imparato nella psicoterapia. Ecco, si parla oggi pochissimo di psicoterapia nei servizi. Anche stamattina al convegno l'hanno nominata due volte. È un po' una cenerentola della psichiatria, si può dire, la psicoterapia. E questo è abbastanza imbarazzante perché oserei dire che il fatto che nei servizi di psichiatria pubblici la psicoterapia venga praticata molto molto poco, mancando operatori, mancando psicologi, rappresenta una sorta di malpractice di massa. Tra l'altro un'altra affermazione provocatorica, vorrei dire, però molto vera, è che c'è una sorta di ingiustizia, cioè di incostituzionalità, perché c'è una selezione dei pazienti sulla base del reddito. I ricchi possono permettersi la psicoterapia in quanto la possono ottenere nel privato. Quelli che non hanno disabilità economiche non possono fare la psicoterapia, perché nel pubblico non possono avere accesso alla psicoterapia. Non a caso, dottor Migono, abbiamo detto che al centro di questi dibattiti c'è anche il termini di democrazia, proprio per questo aspetto a cui le facevo riferimento. Però ecco, le volevo dire, lei come professionista, soprattutto in questi anni di tragedia epocale del Covid, ha sentito molto distante o meno distante l'istituzione dello Stato. Se lei avesse potuto, che domanda avrebbe rivolto al Ministro Speranza? Di che cosa c'è urgente necessità? Nel periodo del Covid? Legato al Covid? Beh, insomma, quello che stiamo continuando a vivere, perché non è finito. Spero che stia finendo. Secondo me le istituzioni hanno fatto quello che potevano, perché era un'emergenza in cui non si poteva prevedere esattamente quello che sarebbe successo. Tante cose sono scoperte lungo il cammino. Ma adesso spero che questa emergenza stia finendo in tutto il mondo, stia lentamente diminuendo, diciamo, anche se rimarrà endemica in un certo qual modo. Ma ripeto, le esigenze che ho sentito più importanti di tutte, anche perché è il mio campo, quello della psicoterapia, è quello che dicevo prima. Voglio aggiungere una cosa a riguardo, che è molto importante, perché adesso sono a reddice ad un lavoro di alcuni anni con una consensus conference nazionale per la terapia psicologica dei disturbi d'ansia e depressivi che abbiamo costituito, appunto sotto le leggi di questo istituto, l'Istituto Superiore di Sanità, che abbiamo costituito nel 2017 e adesso l'abbiamo conclusa. C'è dentro anche Garattini, Brusaferro, eccetera. Ecco, in questa commissione, questo grosso lavoro che abbiamo fatto era partito da un'iniziativa, un convegno fatto a Padova nel 2016, in cui è stato invitato un inglese, David Clark, che parlava del programma inglese IAPT, Improving Access to Psychological Treatments. Cosa vuol dire? Che in Inghilterra, da più di dieci anni, il sistema sanitario nazionale, dietro il consiglio di alcuni psicologi, ma soprattutto di economisti del London School of Economics, hanno deciso di implementare, cioè di rendere possibile l'accesso, di aumentare l'accesso della psicoterapia alla popolazione, assumendo migliaia e migliaia di psicoterapeuti nel servizio pubblico. Perché hanno fatto questo enorme investimento, tra l'altro Speranza stamattina parlava di ulteriori investimenti che vorrebbero fare. Perché è stato dimostrato che in questo modo non solo si ottiene un benessere della popolazione, un maggiore benessere della popolazione, ma un guadagno nelle casse dello Stato, in quanto più pazienti possono tornare a lavorare prima con meno santismo lavorativo. Questo è una cosa molto grossa. Questo programma è stato approvato, appunto, lanciato da un governo laburista e la cosa interessante è che pochi anni dopo è caduto questo governo laburista, è subentrato un governo di destra che l'ha finanziato ancora di più, a riprova del fatto che veramente funziona. Quindi la cosa incredibile è che appunto in Italia la psicoterapia venga molto sottovalutata, non venga considerata nel servizio pubblico. Allora eccoci con il professor Antonello Delia, presidente di Psichiatria Democratica. Perché lo dico così lentamente? Perché anche con gli altri interlocutori, ma anche all'interno del convegno, sta emergendo l'importanza di coniugare questo termine, democrazia, legato al paziente. Chi l'ha preceduta adesso ha appena detto che le risorse magari ci sono, però finiscono per essere sempre a disposizione di pochi e non di molti e non di tutti, mentre il malessere psichico è molto diffuso. Quindi ecco, che cosa possiamo attenderci da un convegno di questo tipo, anche dopo le parole del ministro Speranza? Il suo focus sulla democrazia mi sembra centrale. Devo dire che l'intervento di Saradistanopoulos precedentemente ha introdotto con forza questo termine, rivelando un aspetto che ha a che fare secondo me profondamente con la cultura da cui proviene e che non ha pudore, anzi ha l'orgoglio di poter parlare di democrazia senza rischiare di cadere in una sorta di retorica, cosa che da noi invece è successo, succede. Certo, se non ci fosse questo bisogno di democrazia non ci sarebbe anche un'associazione come quella che presiedo, perché la psichiatria dovrebbe essere democratica se lo fosse veramente. Invece non è così. Le comunità di cui si parlerà di cui si parlerà e di cui ho coordinato la sezione odierna. Le comunità di fatto non esistono, le comunità vanno costruite, le comunità sono luoghi del possibile, sono luoghi delle relazioni, dello scambio, dello scambio relazionale, di materiale, simbolico ed è soltanto a prezzo di fatica e di impegno che questa dimensione comunitaria può essere. Ecco, allora, democrazia vuol dire anche saper costruire comunità, saper costruire ascolto, saper ascoltare e saper dare spazio ai punti di vista, alla poliedricità dei punti di vista che per una serie di motivi che non stiamo qui ora a elencare si è in qualche modo avvizzita, si è persa nel tempo. Il Presidente Tanopoulos ha fatto anche un accorato appello e richiamo all'unità, multidisciplinare ovviamente, no? Significa allora che le divisioni del passato o ancora esistenti non possono che nuocere poi nel raggiungimento di determinati obiettivi? Allora, che ci sia una pluralità di punti di vista e di punti di interesse è umano. Meno umano è meno democratico e meno produttivo e che queste differenze si irrigidiscono in posizioni antagonistiche, in prevalenza degli interessi particolari rispetto a quello che è un interesse generale. Bene o male facciamo tutti un mestiere d'aiuto. Anche quelli che si concentrano sulla dimensione biomedica, sul farmaco, di fatto hanno scelto a loro tempo una professione in cui la dimensione dell'aiuto è centrale. Allora si tratta di ritornare a quello. È forse ingenuo dirlo, è forse un po' così speranzoso, immaginare che interessi, che concrezioni anche culturali che si sono irrigidite nel tempo si possano sfaldare. Ma io non dispero. Il cartello che abbiamo messo insieme nel cofirmare questo manifesto è un cartello inedito. È fatto anche in quel caso di comunità, di reti, di reti di persone che si stimano, che si apprezzano e che pensano che un focus centrale li accomuna. Ed è intorno a questo che nelle differenze di ciascuno abbiamo trovato una convergenza. Per cui questa dimensione è possibile. Dimenticare che esista una questione economica nella sanità sarebbe miope e velleitario. Ma a servirla al benessere e alla salute è un dovere. Dulcis in fondo, chiudiamo questa serie di interviste con l'onorevole Sandra Zampa, volto noto, presentata all'interno del manifesto come esperta del Ministero della Salute. A lei chiediamo di tradurre le poche ma incisive parole del Ministro Speranza, che ha parlato di investimenti, di somme ingenti, da distribuire evidentemente in un modo equo, tant'è che è risuonata più volte la parola democrazia, la parola comunità. Chiediamo una traduzione di queste parole del Ministro. Che cosa ha voluto effettivamente dire e che cosa si deve davvero aspettare il paziente, il malato, di malessere psichico? Conoscendo anche il Ministro e il suo pensiero, ma non c'è bisogno di conoscerlo come nel mio caso, perché le sue parole sono state davvero molto chiare. Sono parole di una persona, di un ministro, quindi di un rappresentante di un'istituzione di questo Paese che dice chiaramente di essere consapevole della portata del problema, che dice con chiarezza di essere consapevole che c'è un ritardo, ci sono delle manchevolezze, c'è, diciamo, negli anni è andata accumulandosi una disattenzione, forse anche un venir meno di risorse e quindi di attenzione di risorse contemporaneamente. Non sto qui ad analizzare le tante ragioni che andrebbero individuate. Ma questo Ministro ci dice, queste cose ci sono note, il nostro impegno però a davvero cercare di dare risposte a questi bisogni è molto grande. Ha ricordato alcuni passaggi fondamentali del suo mandato da Ministro, la conferenza dello scorso anno, più o meno di questi tempi, sulla salute mentale, la sua partecipazione al Summit a Parigi nella passata edizione e la volontà di ospitare questa stessa identica iniziativa in Italia. È stata una scelta che il Ministro ha fatto per dare concretamente il segnale di un impegno non solo al proprio Paese ma per riscuotere anche a livello internazionale più attenzione. L'OMS la va chiedendo. Mi pare che il Ministro Speranza abbia colto in modo importante questo segnale, questo bisogno e che quindi il suo annuncio di volere lavorare di più con tutti i protagonisti in uno spirito di comunità è stata... perché le parole democrazia e comunità dentro diciamo al contesto della salute mentale sono due parole davvero molto significative, evocano metodi, concezione anche della malattia, del disturbo mentale che non sono condivise da tutti e che sono invece un patrimonio molto importante di questo Paese. C'è una cultura diciamo dietro a questo. Ecco, quindi i nostri pazienti, le loro famiglie si devono aspettare più attenzione. Naturalmente i bisogni sono davvero molto molto grandi. Lo erano già prima del Covid e noi sappiamo che sono aumentati dopo. Quindi ve lo dico e lo dico in cui anche sulla base della mia esperienza da sottosegretaria che aveva chiesto la delega proprio in questa materia, bisogna avere anche la forza di lavorare insieme mettendocela tutta e collaborando nel modo più grande possibile, chiedendo però in questo caso al Governo e allo Stato che questa attenzione diventi anche un'attenzione in termini di risorse e ora davvero di fare un grande investimento. Il Ministro da questo punto di vista qualcosa ha detto, ha parlato di ingenti somme. Tra le altre cose il Ministro Speranza ci ha abituato certamente a un suo metodo che è di un lavoro molto rigoroso e molto serio, fatto di pochi annunci ma di risultati. Quando il Ministro alla fine dice farò vuol dire che sta già facendo e sta già operando. E questo l'ho imparato insomma. È un Ministro che certamente non potrà essere accusato di volere occupare la scena con gli annunci ma semmai con fatti. È vero che la coperta non è così grande ma è piuttosto corta ed è anche vero che il Covid ha fortemente ampliato bisogni molto significativi. Però è vero che siamo a una svolta e che in questo momento c'è un'attenzione straordinaria su tutto il tema della salute, compresa la salute mentale, bisogna quindi davvero cogliere l'opportunità che la storia ci mette sul campo, sul tavolo. E al tempo stesso però c'è anche un dovere che è un dovere morale da un lato ed è un dovere istituzionale quello di dare risposte. Occorrerà domandarsi credo anche come mai questo bisogno stia diventando così grande, così diffuso, come mai questo malessere attraversi tanta parte dei nostri concittadini, dei cittadini del mondo europei e non solo e quindi cosa e perché questo malessere si manifesti così potentemente e quindi credo che ci sia una molteplicità di risposte che la politica dovrà dare. Certo noi oggi affrontiamo questa, delle risposte a bisogni di cura e di presa in carico.